Novità in vista per la gestione di un'importante area verde comunale che sarà affidata alle cure da parte degli studenti della sezione agraria. Si tratta dell'aiuola a sparti traffico situata al centro della rotatoria di piazza vittime di Nassiria e per la quale il Comune infatti dando attuazione al suo regolamento per l'affidamento in gestione di aree verdi comunali in questi giorni ha approvato il verbale di aggiudicazione dell'affidamento per due anni in favore della sezione agraria di Alcamo del polo statale di istruzione secondaria superiore Piersanti-Mattarella. L'area verde in oggetto si trova nel punto in cui confluiscono il Viale Italia, il Viale Europa e la Via John Fitzgerald Kennedy. È uno snodo strategico della viabilità urbana alcamese e questo spazio verde costituisce un elemento fondamentale della cosiddetta rotonda intitolata ai caduti e negli attentati di Nassiria nel conflitto in Iraq il 12 novembre 2003. In particolare 19 tra militari e civili italiani che vi persero la vita quasi vent'anni fa. Vedremo dunque nei prossimi mesi le modalità con cui sarà gestita dall'istituto scolastico quest'area verde. Ad Alcamo purtroppo si rivelano spesso molto lunghe le procedure per l'assegnazione e l'affidamento di importanti e anche ampi spazi verdi del Comune per i quali le istituzioni pubbliche non hanno evidentemente la possibilità di garantire al massimo gli sforzi e la costanza per tenerli in buono stato. Grazie a tutti.